dobbiamo mostrare questo secondo periodo di esattezza quindi cosa dobbiamo fare? allora partiamo da x con z qui abbiamo il nostro aperto stellato allora io voglio arrivare a x cosa so? che è l'aperto stellato quindi ci posso andare dritto per dritto qual è l'equazione la parametrizzazione del segmento che parte da x con 0 e arriva fino a x? è x con 0 più t volte x meno 0 t appartiene a 0 e 1 guardate questo famoso 0 per indicare il punto particolare io lo metto c'è stato un periodo che lo mettevo in basso poi lo mettevo in alto perché se no si confonde con le coordinate ora mi metto stesso in basso le coordinate vanno da 1 a n quindi 0 non si può confondere con una coordinata quando metto lo 0 pure che lo metto in basso significa un punto fissato ma un vettore se ci metto x con i è la coordinata iesima oppure metto x0 tra parentesi i per dire la coordinata iesima di x con 0 quindi su questo non ci si può sbagliare allora vedete che quando t è uguale a 0 sto in x con 0 quando t è uguale a 1 sto in x con 0 e il vettore è quello giusto ok? oppure se preferite tx più 1 meno tx con 0 è la stessa cosa questa è ormai una parametrizzazione che abbiamo visto più poco allora io vado a definire f di x come l'integrale esteso a phi di omega scusate a sigma x con 0 x vabbè nel senso di quella fila vabbè quindi non ha rossi ok? a quindi chi è? è la somma me la farei portare direttamente qui per j che va da 1 a n dell'integrale tra 0 e 1 di che cosa? di a con j di x con 0 più t volte x meno x con 0 per adesso devo derivare la x con j rispetto a de t non x con j fi con j ma fi con j è la coordinata jesima di questo alla coordinata jesima di questo questa è una costante derivata da 0 fa x con j meno x 0 j per de t questa è il mio la mia ok allora adesso io voglio fare df in dx con i calcolate in questo allora io voglio derivare rispetto a x con i x con i qua io qua sto integrando in dt qui è come se fosse un parametro quindi posso portare la derivata sotto il segno di integrale integrale questa la con j è una funzione continua pure c1 quindi non c'è nessun problema nel derivare sotto il segno di integrale non c'è dipendenza da x negli esterni di integrazione quindi sto opposto posso derivare sotto il segno di integrale l'abbiamo dimostrato quindi qua mi viene somma per j che va da 1 a n dell'integrale tra 0 e 1 e adesso devo derivare questo rispetto a x con i devo fare d i facciamo tutti i passaggi in dx con i di a con j di x con 0 più i volte x meno x con 0 per x j meno x 0 j e tutto in dt adesso devo fare questa derivata questa è la derivata di un prodotto quindi cominciamo a scrivere i primi pezzi somma per j che va da 1 a n integrale tra 0 e 1 quando derivo quando derivo il primo pezzo rispetto a x con j rispetto a x con i fate attenzione che io devo derivare prima rispetto a questa variabile i esima e poi la variabile i esima rispetto a x con i poi ve lo faccio vedere meglio però cosa mi viene mi viene t volte per la derivata di a con j rispetto a x con i calcolata in x con 0 più t log che è x meno x con 0 e qua c'è x j meno x 0 j in dt più lascio il più così non non si può fraintendere che non mi sono dimenticato il x cioè ho derivato i pezzi di sinistra nella somma ora ripeto perché viene fuori questo t perché questa qua non è qua non ci sta x con i ci sta tx con i quindi per derivare rispetto a x con i devo derivare rispetto a questa variabile e poi questa variabile rispetto a x con i mi porta fuori a t qua lo faccio vedere in maniera più precisa e ticolosa no qua la derivata rispetto a x con i qua c'è x con j perché qua c'è j la somma era su j dall'altra parte devo derivare questo rispetto a x con i ma non mi questo rispetto a x con i normalmente fa 0 cioè quando x con j è diverso j diverso da i fa 0 a meno che j non sia uguale a i e fa 1 quindi cosa mi rimane mi rimane l'integrale tra 0 e 1 di a con j a con i scusate di x con 0 più t volte x meno x con 0 in dt quindi quando derivo qua mi viene 1 e l'altro ci deve stare però che è la derivata del prodotto ok adesso vado a proseguire qua che forse ce lo facciamo a finire in una liga uguale adesso vado però l'ipotesi di chiusura l'ipotesi di chiusura che dice che se scambio questi indici la derivata è uguale quindi qua mi viene somma per j che va da 1 fino a n dell'integrale tra 0 e 1 di t volte derivata di a con i rispetto a x con j calcolato in x con 0 più t volte x meno x con 0 per x j meno x 0 j in d più l'integrale tra 0 e 1 di a con i di x con 0 più t volte x meno x con 0 in d allora io dico che questo qua è allora prendete questa funzione qua f grande di t uguale t volte per a con i di x con 0 più t volte x meno x con 0 allora andate a derivare quando derivo t mi viene questa quando derivo questo pezzo rispetto a t devo prima derivare rispetto a ogni variabile e poi derivare questo rispetto a t che è esattamente che è esattamente che è esattamente allora vediamo un po' che è esattamente quello che mi viene fuori perché la t non l'ho derivata ci sta moltiplicando quando derivo questo quando derivo rispetto a t mi viene fuori questo pezzo qua ok quindi questo è l'integrale tra 0 e 1 poi anche questo lo faccio rivedere meglio di f primo di t quindi è t ma questo è uguale a f di 1 meno f di 0 ma allora quando io ci metto 0 qua c'è 0 e se ne va quando ci metto 1 mi viene a con i di x risco 0 più x meno risco 0 fa x a con i di x per 1 che è esattamente quello che dovrò dimostrare ok quindi mi sono rimaste tre cose tre pendenze da pagare prima pendenza parlare della definizione insieme connessi e la faccio per ultima perché l'abbiamo lasciata indietro poi è un po' più lunga quindi potrà se non lo so se ce la facciamo oggi ma tra oggi e mercoledì mattina lo facciamo seconda pendenza andare a vedere perché qua viene fuori la t in maniera più rigorosa terza pendenza andare a fare questa derivata allora la derivata è sempre la stessa cosa io per esempio come si fa allora cominciamo dall'ultima che è quella più semplice come si fa la derivata diciamo rispetto a t della funzione a con i derivo solo il secondo pezzo no? perché quello il pezzo era di x con 0 più di volte x con 0 allora questo è facile perché tu hai la composizione di due funzioni la prima è la curva x con 0 più di volte x con 0 e la seconda è a con i che ti manda in a con i di x con 0 più di volte x con 0 quindi come si fa la derivata della funzione concosta? si fa vogliamo abbiamo questa che è il gradiente quindi qua abbiamo d a con i più di x con 1 calcolato x con 0 più di volte x con 0 d a con i in d x con n calcolato x con 0 più di volte x con 0 per lo ricombiano di questo ma lo ricombiano di questo è x con 1 meno x 0 1 x con n meno x 0 n quando fate il prodotto scalare o il prodotto matriciale come stanno messi viene esattamente questo pezzo qui senza la t la t ci sta perché quando deriviamo questo la t sta motivando quindi questo è ovvio diciamo forse non andava neanche scritto perché non è la prima volta che lo facciamo ma ormai voglio fare una volta in più piuttosto che una volta in meno invece la seconda è calcolare questa derivata qua ok questa derivata questa era la derivata che abbiamo detto fa la derivata di questa per t allora perché fa la derivata di questa per t fatemi cancellare questo qual è la mia applicazione la mia applicazione è quella che a x mi associa tx più 1 meno tx con 0 che sarebbe tx con 0 più tx con x con 0 la stessa cosa e poi questo e poi quella che ci calcola a con j sopra quindi a con j di tx più 1 meno t diciamo tx con 0 più tx con 0 allora lo jacobiano di questa è sempre quello di prima quindi lo jacobiano di questa è sempre d a con j in io però voglio calcolare sì va beh dx con 1 calcolato in x con 0 più tx meno x con 0 d a con j in dx con m calcolato in x con 0 più tx meno x con 0 questa applicazione qui però non va da r in r ma va da r in r quindi lo jacobiano di questa è una matrice questa matrice come fa dai t t 0 eh sì perché tu quando derivi questo rispetto a x con 1 per cosa diventi t rispetto a x con 2 diventi quindi è t volte la matrice identica quindi quando vai a fare la moltiplicazione praticamente otterrai un gradiente che sarà esattamente questo gradiente moltiplicato per t ma io cosa devo calcolare quando devo andare a calcolare questa non devo andare a calcolare tutto il gradiente mi serve soltanto la componente iesima quindi la componente iesima non sarà altro che la derivata iesima moltiplicata per t chiaro? adesso penso che sia l'invito non chiaro ok abbiamo pagato la seconda eh pendenza ah vabbè c'è stato il tempo quindi facciamo in tempo adesso andiamo a pagare l'ultima pendenza quindi secondo criterio di soltezza è stato finalmente dimostrato allora facciamo così oggi finiamo questa questo discorso sugli aperti connessi connessi per archi eccetera e mercoledì facciamo tutta non so se tutta la settimana prossima sicuramente tutto mercoledì perché ogni volta rimiando rimiando gli esercizi poi si fanno sempre a singhiozzo faremo tutto mercoledì faremo esercizi faremo tre volte di esercizi ok perché abbiamo accumulato un po' di esercizi da fare sugli integrali doppi e tripli ancora perché ne abbiamo fatti ben pochi e poi adesso ci abbiamo da fare tutti gli integrali colpiline in prima e seconda allora che cos'è un aperto commesso sì allora cominciamo a dire così a si dice sconnesso stesso se esistono a con 1 a con 2 aperto a con 1 diverso dal vuoto a con 2 diverso dal vuoto a con 1 intersecato ma con 2 uguale a 2 e a con 1 unito a con 2 uguale a se invece di avere un aperto allora a noi ci interessano soltanto gli aperti se qua ci fosse un insieme c diciamo un insieme e in generale l'unica differenza sarebbe che e dovrebbe essere contenuto in a con 1 cioè e intersecato con 1 cioè deve essere coperto agli insieme e intersecato con 1 deve essere diversa dal vuoto e intersecato con 2 deve essere diversa dal vuoto e intersecato con 1 quindi è intersecato con 2 deve fare E nel caso di un aperto posso scrivere così che è un po' più semplice tutto quello che non ho scritto nel dettaglio poi all'esame non lo dico questo è un aperto sconnesso questa è una definizione A si dice sconnesso se solo se A non è sconnesso allora questi vedete sono i due pezzi sono aperti non vuoti disgiunti fanno A e sono staccati quindi un aperto fatto così è sconnesso se non è vero questo è questo ok definizione A è un aperto di nuovo di Rm qua siamo in Rm A si dice connesso per poligonari se solo se per definizione esiste una diciamo per ogni x1 x2 appartenente ad A esiste una poligonale diciamo che parte da x1 e arriva x2 che cos'è una poligonale definizione una curva phi appartenente alle curve che partono da x1 e arriva x2 si dice poligonale possiamo mettere pure con lati paralleli agli assi coordinati se solo se per definizione phi è uguale a phi1 unito unito phi k il segno di giusta posizione significa che la prima curva vada allora phi k è diciamo di t è del tipo x diciamo un certo punto chiamiamolo phi k allora prendiamo t è compreso tra a e b t a b è uguale a t0 phi k phi k di t è del tipo phi k di t con k meno 1 più t volte meno più t meno tk meno 1 che moltiplica un certo e con j e con j j potete scegliere come vi pare che cosa significa questo faccio prima fare la figura significa che io quando parto da t con 0 a t con 1 scelgo una direzione in massico ordinato e mi muovo per esempio in R2 abbiamo solo due direzioni orizzontale verticale poi mi muovo verticale poi mi muovo di nuovo orizzontale poi mi muovo verticale poi mi muovo capito qua purtroppo devo alternare sempre orizzontale verticale x quindi x forse lo sembrano veramente stravolta le coordinate parto da x e anche questo mettiamo che il mio insieme era fatto così vedete che io per arrivare da x a x primo devo fare questo percorso qua posso fare questo percorso qua non è che lo devo fare posso fare neanche un altro allora noi ci siamo poligonale sarebbe con molti lati in realtà però per non appesantire la notazione non l'abbiamo scritto però qua l'abbiamo scritto noi vogliamo che questi lati siano paralleli a un asse ogni lato sia parallelo a un asse coordinato perché così siamo sicuri che cioè più semplici di questo non ci stanno come curve no? io faccio dei è chiaro che sono poi questo simbolo di giusta posizione significa che la curva seguente inizia da dove è finita quella precedente e se ci fate caso anche come t l'insieme su cui è definita questa qua sarà t compreso tra tk-1 e tk poi per la quando scusate qua ho tagliato ho messo k poi devo mettere h h h h h h e h vado ad 1 a k questo j dipende da h perché io ovviamente quando vado a fare il pezzetto archesimo mi posso muovere con i lati in questo caso lo dico connesso per poligonali cioè io per arrivare per esempio mettiamola così le città diciamo le strade americane spesso le strade cittadine vi ricordate il fatto che le strade americane quasi tutte le cittadine americane hanno una pianta fatta così e poi se non potesse per poligonali in quel senso vai qui o ritornato tirato tirato poi c'è va beh sta quella diagonale ma tu puoi sempre andare da un posto all'altro in un ritornale maticato trascurando le poche strade allora in realtà quello che mi interessa è stabilire che un aperto è connesso in RN se solo se è connesso per poligonali questo perché ci serviva se vi ricordate il primo video di esattezza ci serviva a dire la merca è connessa io fino a x ci posso arrivare io ho fatto una curva genetica però a questo punto ci posso arrivare con una poligonali poi quando sto in un intorno di x poi ho detto mi muovo da x a x più t e con i dritto per dritto ma questo quando lo posso fare? in un piccolo intorno perché sicuramente se prendo un piccolo siccome non si è una percola se prendo un intorno abbastanza piccolo la sferetta di raggio t è contenuta in A e quindi mi posso muovere dritto per dritto ma a questo punto voglio lasciare un pezzo che rimane una poligonale quindi diciamo va bene la dimostrazione questo non mi serviva però diciamo che la cosa importante è sapere che se un insieme è connesso è connesso per poligonale e viceversa ora di queste due implicazioni una è facile allora proposizione non cancelliamo nulla qua andiamo a scrivere la proposizione sull'altro davanti questa proposizione la dopo è facoltativa quindi non diciamo è obbligatoria da portare da portare all'ora sicuramente chi vuole magari non è che se mi dite questa proposizione prendete un modo alto più o meno prima che io ve la chieda che vuol dire che dovete prima di essere vi guadagnati una base di batterie però e poi non è il manco che sia così difficile allora la proposizione qual è? tiriamo un po' perché tanto ce la dobbiamo fare A contenuti di FN aperto è connesso sesso così A è connesso per poligonale ok allora la applicazione facile è questa qui eh che sesso insieme è connesso eh per eh sì che sesso insieme è connesso per poligonali è anche connesso allora quello funziona supponiamo che l'assoluto A non connesso A uguale a 1 unito a 2 ecc prendiamo X in A1 e X' in A2 noi sappiamo che esiste una poligonale che appartiene alle poligonali che congiungono congiungono X' poligonale e congiungono X' di quel tipo che abbiamo detto allora quindi questa poligonale chiamiamola Phi allora abbiamo Phi di A uguale X' e Phi di B uguale X' allora se noi andiamo a vedere consideriamo l'insieme dei X delle T tali che Phi di T appartiene da 1 questo è un aperto per quale motivo Phi è un'applicazione continua la controimmagine è un'applicazione continua di un'aperto e un'aperto questo qui lo chiamiamo come vogliamo chiamare E con 1 chiamiamo E con 2 l'insieme delle T tali che Phi di T diciamo T tra A e B T tra A e B Phi di T T tra A e B sta in A2 allora AB è uguale diciamo è aperto nella dopo l'indotto cioè AB è uguale a E con 1 unito E con 2 E con 1 ed E con 2 non sono vuoti e E con 1 ed E con 2 sono aperti nella topologia indotta da R da R su AB cioè sarebbe a dire R c'è una topologia che abbiamo studiato l'anno scorso quando prendo l'intervallo più su AB qui sono gli aperti di AB sono le sezioni di aperti di R con l'insieme AB modulo questo questi sono due aperti non muoti disgiunti che mi danno tutto AB siccome sto nello spazio nello spazio AB cioè non sto considerando tutto N ma sto considerando come spazio metrico AB perché se sono spaziometri se si è uno spazio metrico è pure uno spazio metrico con la topologia indotta e quindi AB sappiamo che è connesso mentre diciamo l'unione di questi due dice che AB è connesso perché sono non muoti disgiunti che fa l'unione a questo punto questo mi dice che se è connesso per il poligonale non è connesso ok non mi serve più preciso di così oppure se qualcuno vuole dei dettagli ulteriori poi glieli posso dare diciamo agilmente perché altrimenti dobbiamo andare a parlare troppo di materiale diciamo quello che mi interessa invece è l'implicazione opposta l'implicazione opposta è un po' più complicata diciamo questa è semplice nella sostanza è complicata nella forma perché richiederebbe la precisazione di qualche concetto di matematica oppure richiede che dia delle definizioni ad hoc cioè in un modo o in un modo o nell'altro dovrei perdere 10 minuti che sarebbero quasi comunque buttati ad hoc sarebbero 10 minuti sprecati solo per questo argomento e se invece avessero un corso generale sarebbero 10 minuti buttati diciamo poi con l'argomento non mi interessa invece mi interessa questa applicata questa indicazione allora prendiamo x con 0 appartenente alla allora io prendo a con 1 l'insieme degli x tale che esiste una poligonale che parte da x con 0 e arriva a x degli x appartenenti ad a e prendo a con 2 l'insieme degli x appartenenti ad a tale che esiste non esiste una poligonale che parte da x con 0 e arriva fino a x del tipo di primo ok allora notiamo che a con 1 e a con 2 a con 1 mi dice a con 2 fa tutto a perché la poligonale o ci sta o non ci sta poi a con 1 è diverso dal vuoto e poi quello che ci manca da dimostrare è che a con 1 e a con 2 sono aperti perché sono aperti beh guardate se io posso arrivare fino a x con una poligonale io posso muovermi da x in tutte le direzioni aggiungendo un pezzetto di poligonale quindi posso chiaramente arrivare in un intorno sferico di x se io prendo un intorno sferico di x abbastanza piccolo in maniera tale da rimanere dentro a parto da x in tutte le direzioni diciamo x è come il centro della sfera va bene come centro sfera quello insieme stellato rispetto al centro della sfera quindi aggiungendo si vabbè uno dice ma qua in diagonale come ci va e ci va prima in orizzontale poi in verticale oppure se siamo in dimensione n devo fare n trattini ma in ogni caso ci posso arrivare per cui a con 1 questo insieme qua è aperto cioè se posso arrivare a x posso arrivare tutto in un intorno sferico di x e quindi questo insieme è aperto diciamo gli x che posso raggiungere sono tutti interni ma anche quelli che non posso raggiungere sono interni perché se io non posso raggiungere x non posso raggiungere neanche un punto di una sferetta diciamo che allora se x sta in a prendo una sferetta che sta ancora in a allora questo è a allora se arrivassi a un punto della sferetta faccio il percorso che vada al centro della sferetta alla sferetta a questo punto al contrario quindi se raggiungo un punto della sferetta raggiungo pure x quindi se non raggiungo x non posso raggiungere nessun punto di una sferetta con te diciamo che di centro e di seconda e di centro quindi anche questo insieme è aperto allora cosa ne serve? ne serve che io ho trovato due aperti disgiunti perché quelli sono disgiunti per posizione l'unione fa e il primo non è vuoto se il secondo non fosse vuoto l'aperto sarebbe sconnessi se vi ricordate la definizione sconnessione è unione di due aperti non vuoti e disgiunti che è unione di due aperti non vuoti e disgiunti adesso unione di due aperti uno è vuoto sono disgiunti qual è l'unica possibilità che rimane chi ha con due è il punto perché se non fosse vuoto l'ipotesi sarebbe violata cioè che l'insieme di partenza fosse connesso sarebbe violata ok? ok ripeto questa proposizione è facoltativa quindi non mi fraintendete diciamo però per capirci quando parliamo liberamente diciamo l'aperto è connesso quindi è fatto un pezzo solo e poi quando diciamo l'aperto è connesso quindi posso andare con una curva da qui a lì lo dico perché è vero perché diciamo se l'aperto è connesso io posso trovare addirittura una poligonale con lati paralleli agli assi coordinati per muovermi tra due punti dell'insieme ovviamente se mi voglio muovere in maniera curvilinea magari faccio prima per in certi casi però va bene? ok oppure in diagonale la strada retta è sempre quella più corta però diciamo dipende cosa significa faccio prima va beh allora facendo un attimo il ripito velocemente se abbiamo tempo se abbiamo un po' di tempo allora ripetiamo cosa abbiamo visto? abbiamo visto l'integrale delle curve in i delle forme differenziali abbiamo visto che questi dipendono in generale dipendono dal percorso dipendono pure dal verso di percorrenza abbiamo visto che però per una curva semplice e regolare a tratti regolare a tratti significa che è la giusta posizione di curve regolari così come prima avevamo la giusta posizione di segmentini sulla curva semplice e regolare a tratti dipende solo dal verso di percorrenza questo l'avevamo già visto l'altra volta oggi invece abbiamo visto che ci sono alcune forme differenziali cioè quelle esatte in cui il tutto dipende solo da dove parte e dove arrivo e implicitamente quindi anche dal verso di percorrenza però solo da dove parto e dove arrivo queste si chiamano forme differenziali esatte una condizione necessaria perché una forma differenziale esatta è che l'integrale lungo ogni cammino chiuso sia nulla questa condizione è anche sufficiente se l'aperto è connesso perché altrimenti semplicemente il cammino non c'è proprio tra due pezzi sconnessi come lo congiungo un punto che sta qua con un punto che sta là nelle due componenti connesse diverse poi abbiamo detto che se la forma differenziale di classe C1 non ha condizione necessaria per essere esatto è che la forma differenziale sia chiusa questa condizione non è sufficiente però la non sufficienza non dipende da problemi che le forme differenziali chiuse non sono esatte moralmente ma dipende da un problema sulla geometria del dominio cioè se la forma differenziale è di classe C1 ed è chiusa e l'aperto non ha buchi in matematica si dice semplicemente connesso allora la forma differenziale è esatta noi però l'abbiamo dimostrato in una ipotesi un po' più forte che l'aperto sia stellato quindi la definizione di buco non l'abbiamo data proprio e quindi sappiamo che se l'aperto è stellato cioè esiste un punto dal quale un end posso unire tutti gli altri punti del mio aperto con questo punto tramite il segmento che li congiunge cioè dritto per dritto allora l'aperto si dice stellato su questi aperti sicuramente il terreno vale e quindi questi aperti non hanno buchi infatti moralmente abbiamo fatto capire che questi aperti buchi non ne hanno detto questo ci rimane da fare una caterva di esercizi ora abbiamo esercizi ripeto integrale doppi integrale tripli integrale doppi qualcuno abbiamo fatto ma non tanti integrale doppi integrale tripli integrale gruverini di pri e seconda specie qualche esercizio ripeto l'abbiamo già fatto però li dobbiamo fare molti di più veloci basta